Compirà 5 anni alla vigilia di Natale il piccolo Federico Mezzina, il bimbo fanese affetto dal morbo di Crabb, che ogni giorno lotta contro questa malattia neurodegenerativa. A suo fianco, come sempre, mamma Tiziana e papà Vito, che tornano a chiedere aiuto, visti i peggioramenti subiti dal piccolo. Dopo l'ultima delle nove infusioni, avvenuta nel luglio 2014, ora fa fatica anche a deglutire. Il trattamento con il metodo stamina, infatti, era stato bloccato nonostante i numerosi appelli della famiglia e la battaglia portata avanti grazie all'attenzione dei media e della stampa, ma tutto ciò purtroppo è stato inutile. Davide Vannoni, diattore della contestata terapia, è indagato con altri per associazione per delinquere, truffa e somministrazione pericolosa di farmaci, mentre la famiglia Mezzina è costretta ad andare in paesi esteri per praticare una terapia con cellule staminali. Federico ha subito un peggioramento rispetto allo stadio a cui era arrivato, soprattutto nella deglutizione, nella trazione degli arti, nella respirazione un pochino, perché è uscito a fare una rinite allergica, che per un bambino normale è già un evento fastidioso, ma per lui ancora più, perché fa difficoltà poi a deglutire e tutto il resto. Ha bisogno di ulteriori cure, cure che però dovrebbero essere effettuate all'estero e questi viaggi sono molto costosi. Sì, abbiamo individuato una terapia che riteniamo possa essere la più idonea per lui, per la sua patologia e quindi abbiamo deciso di tentare, di vedere se avrà dei risultati positivi, ovviamente noi ce lo auguriamo e abbiamo deciso di partire. Ma insomma si parla di che cifre? Siamo intorno ai 30.000 euro a ciclo, oltre le spese di viaggio e soggiorno. Per chi volesse aiutare il piccolo e contribuire alle spese può fare un'offerta sul conto corrente bancario intestato all'associazione Una Speranza per Federico Onlus. La donazione sarà detraibile o deducibile dal proprio reddito, per avere ulteriori informazioni invece è possibile visitare la pagina Facebook Una Speranza per Federico. Devo innanzitutto però ringraziare tutti quelli che già si stanno attivando, non ce lo saremmo mai aspettati, sono in tantissimi, dal privato, dal singolo ai piccoli commercianti, quindi è stata una cosa molto bella e molto importante. Per il futuro abbiamo in progetto una cena per il 12 dicembre alla Bocciofile e alla Combattente, speriamo di essere in tantissimi. E in quell'occasione verrà anche presentata una canzone scritta per Federico da un cantatore fanese, io ho sentito l'anteprima molto bella, perché poi ha voluto portare in musica e parole la storia di Federico, ma non è solo la storia di Federico, è la storia di tanti bambini che si trovano ad affrontare la situazione di Federico. E sarà un'occasione ulteriore per raccogliere fondi? Un'occasione ulteriore per raccogliere fondi e per stare insieme, per conoscerci.